Buongiorno amici, buongiorno amiche, salve a tutti. Ottantoduesimo giorno oggi, Antonella di Massa, ottantoduesimo giorno dalla sua sparizione. La donna è trovata morta poi dopo undici giorni. Se noi andiamo sulla strada dove è stato trovato il corpo, quindi sul prospiciente giardino, vediamo che vi è un mucchio di fiori, anche fiori freschi, che sono appoggiati su quel muro di cinta dove dopo pochi metri c'era il corpo. E quindi molti fiori su quel muro che affaccia sul giardino dove il 28 di febbraio venne ritrovata Antonella. Questi fiori che stanno lì freschi rappresentano una silenziosa testimonianza di persone che non hanno voluto essere assenti e che hanno avuto a cuore la casalinga di Ischia silenziosi testimoni che mettono un fiore, un pensiero e vanno via. Si fermano magari un paio di minuti e chissà cosa pensano in quei due minuti chissà cosa passerà per la loro testa e chissà quante domande senza risposte che si faranno. Sono praticamente penso quasi tutti di Ischia alcuni la conoscevano direttamente e avranno stampato nella loro mente diciamo il suo sorriso il suo modo gentile di porsi però a parte questo continua la consegna del silenzio da parte di tutti facendo una breve parentesi aprendo una breve parentesi io oggi sul canale ho postato quello che probabilmente sarà l'ultimo video sulla sulla vicenda di di Milena Santirocco la donna che è stata ritrovata lì la donna di Lanciano perché credo che in questo caso qui sia giusto far scendere un po' di silenzio di riservo di rispetto per l'intimità di questa donna perché sono state fornite tutte le spiegazioni che lei doveva fornire dove doveva fornire dove è stato rivelato insomma questo grosso disagio psicologico e quindi è stato detto tutto ciò che ha fatto i tentativi di togliersi la vita insomma tutto tutto quello che poi troverete sul canale spiegato bene quindi ad un certo punto ho detto tranne se non vi saranno come dire novità eccezionali però è giusto che questo debba essere l'ultimo video e che non si parli più di Milena e che la si lasci insomma a ricostruire in serenità la propria vita privata questo è un significato per dire lasciamo il silenzio rispettiamo rispettiamo la famiglia rispettiamo il silenzio perché è giusto in questo modo qui ma in questo caso di Antonella dove non c'è alcuna risposta alla morte di questa donna non si comprende questa richiesta qui mi dice mi scrive Angela dicendo che dopo l'ennesima volta che ha scritto alla trasmissione chi l'ha visto ha ricevuto una risposta e sembrerebbe che la trasmissione le abbia detto che la prossima settimana tornerà ad occuparsi del caso non so se poi sarà vero o meno però ci piace pensare di sì ci piace pensare che magari anche noi possiamo avere contribuito a questa cosa qui con il nostro interesse perché è vero che il rumore di due mani è quasi niente ma il rumore di dieci mani lo sbattere di cento mani di mille mani di dici mila mani fa un grande rumore e quindi è importante qui il rumore che dico io non è un rumore diciamo contro qualcuno qui è solo un rumore a favore cioè un rumore da fare a favore della verità della giustizia io ricordo lo stesso appello che fece il marito domenico che quando disse voglio la verità voglio la verità chiunque sappia qualcosa vada dagli inquirenti ecco perché tenere viva l'attenzione è un atto di generosità verso tutti coloro che hanno conosciuto e che hanno voluto bene a questa donna qualcuno mi scrive vabbè ma alla fine si sa che si è suicidata è una banalizzazione può anche essere vera sicuramente ma ma come ma quando ma come ha fatto dove è stata con chi è stata noi contrariamente a quando è stato detto è che non sappiamo né il prima di questa storia non sappiamo nemmeno come è finita per cui non è che c'è da sapere magari dove è stata per quei dieci giorni perché se fosse solo di sapere dove è stata quei dieci giorni prima di essere ritrovata sarebbe una una mera curiosità qui noi non sappiamo il prima cioè come stava prima di quella mattina che problema aveva perché usciva di corsa perché non aveva le fedi cosa era successo e poi non sappiamo nemmeno com'è finita non sappiamo com'è finita sappiamo che questa donna è morta ma non sappiamo come è suicidio è omicidio quali sono le cause quando come perché è successo ecco perché oggi dopo 82 giorni dalla sparizione siamo ancora qua a guardarci intorno a non vedere gente attorno a noi eppure a porci le domande di sempre siamo in pochi ma siamo quelli che credono che anche una semplice casalinga meriti verità e giustizia quindi andiamo avanti qualcuno mi scrive anche che addirittura i familiari forse sanno sicuramente già i risultati dell'autopsia e non non li devono dire a nessuno non credo che sia così perché a parte che sarebbe grave non credo proprio la procura ha aperto un fascicolo per istituzione al suicidio che non ha chiuso chiuderà evidentemente con motivazioni un caso che appassionato e coinvolto così l'Italia non credo che possa essere chiuso in camera caritatis come un segreto di Stato quindi detto ciò sono convinto che magari se ne parlerà di nuovo che la verità verrà fuori e che saremo sempre più numerosi qui ad attendere che si dicono parole di verità per Antonella di massa oggi 82 giorni grazie un abbraccio a tutti quanti voi